Condanna bisse in appello, ma con pena dimezzata, per l'uomo di 52 anni, protagonista a suo malgrado della rivolta popolare che il 29 giugno 2011 andò in scena a Iolo, nei condomini di via Antonio d'Acquarata, quando si scatenò una vera e propria caccia all'uomo accusato di aver avuto rapporti sessuali con un ragazzino di 15 anni. Il cosiddetto pedofilo di Iolo è comparso nuovamente davanti ai giudici della Corte d'Appello di Firenze. Dopo che la Cassazione a maggio aveva annullato il precedente processo, concluso con una condanna a tre anni di reclusione. In primo grado il 52enne era stato invece condannato a quattro anni con la grave accusa di induzione e sfruttamento della prostituzione minorile. Proprio il capo di accusa, secondo i giudici della Cassazione, era troppo punitivo per l'imputato, che è stato giudicato stavolta per il reato di atti sessuali con minori. Nel giugno del 2011 gli abitanti del quartiere decisero di farsi giustizia da soli e andò in scena un tentativo di linciaggio domato a fatica dalle forze dell'ordine, intervenute con decine di uomini. Il 52enne fu messo in salvo con uno stratagemma, fu vestito da vigile del fuoco e portato in una località segreta, dove ha anche scontato gli arresti domiciliari per un periodo superiore a quella che è stata la condanna definitiva, a un anno e quattro mesi di reclusione. Ieri invece è stato condannato a 14 anni di reclusione, con lo sconto per il rito abbreviato, il cinese 31enne che lo scorso 19 maggio uccise l'ex fidanzata di 26 anni, al culmine di un litigio scoppiato in una fitta camere di via Pistoiese. L'omicidio fu scoperto nel tardo pomeriggio dello scorso 19 maggio, anche se la morte della giovane è stata fatta risalire ad alcune ore prima. Fin da subito i sospetti dei carabinieri si concentrarono sul fidanzato, che dopo alcune ore di interrogatorio serrato, era crollato e aveva ammesso il litigio con l'ormai ex fidanzata, una lite dovuta sia a motivi di gelosia sia economici. La tensione era salita dopo che l'uomo aveva contestato alla fidanzata un presunto tradimento che sarebbe stato consumato in Cina durante un viaggio di qualche mese prima. Per la rottura del fidanzamento l'uomo avrebbe preteso un indennizzo pari a 10.000 euro.